martedì 30 luglio 2024 buongiorno a tutti e benvenuti alla rassegna stampa buongiorno voglio ricordarvi due cose la prima è il numero di telefono per i vostri vocali whatsapp che è 366 111 2964 e la seconda che oggi ci troveremo in diretta come tutti i giorni alle 13 per parlare insieme di milan andiamo a vedere insieme le prime pagine dei giornali dei quotidiani sportivi cominciamo dalla gazzetta dello sport che titola nuotiamo nell'oro facciamo un salto veloce così tanto per farci una risata sul corriere dello sport titolo il corriere dello sport nuotiamo nell'oro eccolo qua la fantasia al potere questa mattina per quel che riguarda i quotidiani sportivi no vabbè a parte gli scherzi celebriamo il grande successo di cecon che vince la medaglia d'oro dei 100 d'orso e dice niente festa perché ci sono i 200 dunque complimenti a thomas cecon per questo grande successo andiamo al calcio è arrivato a milano pavlovich pavolic rosso nero già milano per visita e firma ora l'assalto ad emerson e fofanà e poi l'inter che fa cassa con i giovani ecco gli 11 milioni per reinan e insomma ogni squadra cerca diciamo di arrabbattarsi a modo suo per fare per per fare mercato la raffichetta oggi raffichetta perché giustamente lo spazio viene dato alla nuoto e all'italia alle olimpiadi ma la raffichetta destra di calcio mercato vedete rodriguez soluzione per l'inter se ne ha già parlato qualche settimana fa poi pavlovich che abbraccia il milan e poi per la fiorentina il sogno è musso questione portieri molto delicata anche per noi tra poco vediamo perché e poi ritorna alla grandissima proprio a piena pagina casa lukaku eccola qua casa lukaku poco casa lukaku quest'anno è poco mi sa che proprio che va il napoli ormai è deciso ma non ci sono tante tiritere lukkene 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 la pista osimene celsi dialogo si riapre i blues ripensano a victor nell'operazione entra anche big rom c'è solo un piccolo problema che il celsi ha qualcosa come mi pare 45 giocatori tesserati e quindi deve cominciare un po a sfoltire e qualcosa sicuramente arriverà anche da noi e magari nella zona d'attacco staremo a vedere comunque lukkaku napoli c'è la pista è arrivato douglas luiz è arrivato a torino il centrocampista brasiliano affare di mercato di questa estate della juventus e poi la roma dovec in pugno 32 milioni più 4 di bonus al girona oltre al 10 per cento sulla futura rivendita tutto pronto per la firma e dunque la roma ha scelto il suo nuovo centravanti ed è quello del girona andiamo a tutto sport tutto sport apre col moto naturalmente fenomeno parlando di cecon nei cento d'orso poi l'arrivo di douglas luiz a centrocampo mentre alla juventus miretti si frattura un piede c'è l'urgenza con miners e poi a sinistra vedete pavlovice c'è il milan ora emerson e poi per quel che riguarda invece il monza in porta arriva keylor navas portiere di grandissima esperienza nel giorno del ottantesimo compleanno di adriano galliani e quindi noi facciamo un applauso ad adriano galliani per questo grande traguardo che ha raggiunto invece anche qui adesso ve lo faccio vedere aspetta perché insomma mi sembra una cosa giusta una cosa giusta eccolo qui eccolo qui gazzetta dello sport il compleanno galliani 80 le fughe da bambino per vedere pusca pusca i trionfi da grande con berlusconi una storia sempre scritta con il cuore dal milan al monza una passione che non finisce mai eccolo qui nava se consiglia fare in attesa oggi si fa daniel maldini questa dunque la parte dedicata giustamente a nostro ex dirigente adriano galliani allora parliamo del nostro milan e parliamo di pavlovice perché pavlovice è sbarcato è sceso da salisburgo non so dove si trovasse non credo salisburgo comunque sia salisburgo perché stava facendo la preparazione con la sua squadra pavlovice a milano il servo è in città per visita e firma emerson e fufana il club stringe dopo morata secondo colpo del diavolo ora l'obiettivo è rinforzare la fascia destra con il brasiliano e la mediana con il francese scrive la gazzetta dello sport e poi c'è la questione di sportiello che si è fatto male a fortuitamente in hotel un serio taglio la mano sinistra che l'ha costretto a non scendere in campo con i siti e rischia tra due e tre mesi di stop e allora il milan pensa ad un altro portiere come si sarà fatto male sportiello non si sa ci sono portieri che sono rotti i piedi col profumo ci sono difensori che sono fatti male con la playstation come ricorderete nesta insomma la casistica degli infortuni balordi è ricca e si aggiunge questa di sportiello cercheremo di capire perché semmai riusciremo a saperlo l'intervista niente un po di meno che a dragan stoikovic commissario tecnico della serbia che dice strai voce accidenti io non riesco non ho mai capito come si pronuncia il nome di pavlovich quindi finché non mi informo lo chiamo pavlovich non vi dispiace comunque dovrebbe essere strai strainja strainja difficile pavlovich 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 è forte un vero guerriero fatto un affare il ct della serbia dice non sono tanti i centrali giovani del suo livello ha un carattere immenso questo dunque il nostro nuovo difensore centrale per quel che riguarda invece l'inter l'inter che fa cassa 11 milioni i giovani da inter ora il difensore vedete qui si parla naturalmente di martin satriano e lussiena gume questi sono i giocatori con i quali l'inter farebbe cassa per poi virare per poi diciamo dedicare questo denaro al difensore o renan brasiliano oppure percovic le idee per in zaghi satriano gume ai saluti loro addi utili per il colpo mancino brasiliano e croato nella lista dei club e poi c'è una curiosità ovvero la la cessione delle quote del can da parte del fondo octree che ha venduto queste quote a chile mbappé vedete qui sono l'inter per il fondo usa e chile m con la sua holding vicino all 80 per cento del club che era gestito da un team diverso dal nero azzurro dunque questi sono alcuni degli affari che si fanno tra chi ha molto denaro cosa che in queste attitudini è sconosciuta ma c'è gente che ha molte che ha molta disponibilità e compra delle quote chissà se mbappé lo sa perché io sono sempre incuriosito da questa cosa no perché insomma giustamente ha delle società che le gestiscono un patrimonio importante chissà se lui sa di queste cose ma la juve accelera la signora scatta mossa per con miners e galeno avanza pressing sul porto motta perde miretti per almeno un mese è giunto ricambia marcia per l'olandese avanza il brasiliano contatti per adeiemi dunque reparto mediano offensivo in lavorazione per quel che riguarda la juventus reparto offensivo in gran lavorazione per quel che riguarda la roma la favola di sule qui si parla delle visite ok la firma l'argentino è già un figlio di roma e poi c'è la questione di dovbic eccolo qui dovbic ora un passo la svolta in 48 ore pareggiata l'offerta dell'atletico di 38 milioni di euro e c'è in 35 più percentuali bonus eccetera dunque potrebbe essere davvero artem dovbic il nuovo centravanti della roma di de rossi invece il nuovo centravanti del napoli di conto del napoli di conte molto probabilmente sarà lucaco nel frattempo la gazzetta analizza quella che fino adesso l'operato del nuovo tecnico azzurro la mano di conte laboratorio napoli fantasia e furore nel nuovo 3421 il modulo è già assimilato interscambi velocità e aggressività e il genio di kvaraskelia a fare la differenza questo dunque l'approfondimento sul napoli di conte come vedete la lavagna tattica insomma se vi fa piacere potete approfondire questo aspetto dei partenopei bene siamo giunti alla fine di questa rassegna stampa io vi ringrazio vi auguro un buon martedì e vi do appuntamento vi aspetto alle ore 13 in diretta come ogni giorno per parlare di calcio di minan di vita e di tutto quello che vorrete più tardi